I paesi europei insieme agli Stati Uniti guardano con preoccupazione ma senza allarmismi quanto sta accadendo in Cina, un paese alle prese con una nuova pandemia da Covid-19. Dopo le direttive imposte dal Ministero della Salute Italiano, anche Regno Unito, Francia e Spagna hanno deciso di introdurre l'obbligo di testa o di un certificato di vaccinazione per chi arriva dalla Cina. Tamponi molecolari dunque, uno scenario che ci riporta all'inizio della pandemia. Il Ministro della Salute espagnolo Carolina Darias ha fatto sapere che a livello nazionale verranno implementati controlli negli scali richiedendo a tutti i passeggeri provenienti dal paese asiatico di mostrare un test negativo la prova di un certificato di vaccinazione completo. Intanto gli esperti del Centro Europeo per il controllo delle malattie hanno fatto sapere che le varianti del virus che sono state rilevate finora in Cina sono circolate già in precedenza in Europa e quindi finora non rappresenterebbero una minaccia per la popolazione. Grazie.